Le macchine sanno fare benissimo i ragionamenti molto più velocemente di noi e quindi in quello ci hanno battuti quasi subito e invece hanno difficoltà e continuano ad averne ancora abbastanza adesso benché la cosa si stia rimediando a simulare l'aspetto invece corporale quello che anche gli animali fanno facilmente e i computer solo ora incominciano a effettivamente riuscire a riconoscere le facce quello che si chiama pattern recognition o a riconoscere per esempio una calligrafia ha servito che la sensorialità è difficile da simulare e la razionalità invece è facile da simulare con le macchine con il nostro grande scorno naturalmente